era un giardino per ciechi la vista costantemente era offesa ma l'odorato poteva trarre da esso un piacere forte benché non delicato le rose polneiron le cui piantine aveva egli stesso acquistato a parigi erano degenerate e citate prima e rinfrollite dopo dai succhi vigorosi e indolenti della terra siciliana arse dai lugli apocalittici si erano mutati in una sorta di cavoli color carne usceni ma che distillavano un denso aroma così turpe che nessun allevatore francese avrebbe osato sperare il principe se ne pose una sotto il naso e gli sembrò di odorare la coscia di una ballerina dell'opera bendicò cui venne offerta pure si ritrasse nauseato e si affrettò a cercare sensazioni più salubri fra il concime e certe lucertoluzze morte la descrizione del giardino dei salina alle prime pagine del gatto pardo ci porta direttamente a una domanda perché un podcast di giardini perché non delle illustrazioni dei video intanto il nome di questo podcast giardino rivelato riguarda un progetto più ampio il cui obiettivo è per l'appunto quello di portare a scoprire i giardini in tutte le loro parti visibili e invisibili perché sorga il desiderio di viverli è per questo che ci trovate su instagram che è basato su immagini perché questo accada però io devo sentire che il giardino ha qualcosa da raccontarmi ma cosa da raccontarmi come abbiamo detto nell'episodio di due settimane fa è necessario raccontare parlare del giardino con tutti i mezzi è giusto usare i disegni foto video è giusto usare anche videogiochi abbiamo deciso di partire dalla voce il motivo è molto semplice la lingua è la nostra patria la nostra casa è il luogo in cui noi viviamo la maggior parte del tempo esattamente come il giardino non è un'immagine da scoprire ma uno spazio da abitare abbiamo già discorso un po del giardino segreto abbiamo cominciato i nostri appuntamenti basandoci su un testo di pier grimal l'arte dei giardini sappiamo che il giardino è da sempre un topos letterario importantissimo dal giardino di adamo ed eva fino ai giardini della poesia medievale rinascimentale si capisce che il giardino sia un luogo che da sempre si può vedere con le parole e che siamo noi noi contemporanei e fotografici ad aspettarci di dover vedere per capire quello che è stato fatto per essere vissuto prima che compreso ed arriviamo al nodo fondamentale del nostro discorso un giardino non è solo l'immagine che dà di sé da studente ricordo di aver trovato una volta su internet una testimonianza su ippolito pizzetti che è un personaggio sconosciuto fuori dal mondo dei giardini può risuonare forse ad alcuni appassionati di musica perché figlio di ilde brando che era un importante compositore del novecento pizzetti veniva dalla letteratura lui non disegnava i suoi progetti si era laureato nel cinquanta con una tesi su pavese insieme a natalino sapegno e quando doveva decidere dove mettere le piante andava sul posto e piazzava dei legnetti è polito il mondo dei giardini dell'architettura del paesaggio in italia deve tantissimo però non ne parleremo in questo momento ci concentriamo invece su questa testimonianza dice di una conferenza tenutasi a vienna in cui dovendo parlare dei giardini da lui realizzati non ha mostrato alcuna immagine ma solo raccontato ha parlato delle piante delle singole piante di come si comportavano tra di loro come si comportavano durante l'anno e rispondendo a chi gli chiedeva perché non utilizzasse fotografie rispondeva ma come può una fotografia riprodurre uno spettacolo continuamente in evoluzione che si svolge in quattro atti stagionali sono seduto nel famoso giardino naturalmente non sono più lì per davvero ma chi c'è stato una volta sarà lì per sempre credo che uno possa restare a contemplare questo luogo per un minuto un'ora o un giorno certi per tutta la vita più mi attardo più diventa indescrivibile la sensazione che provo a guardarlo come se fossi risucchiato come se mi librassi sopra il giardino come se fisicamente io stesso entrasse a farne parte mi rendo conto che non me ne voglio andare che mi giro torno indietro mi risiedo e adesso a distanza di così tanto tempo di ritorno da altri paesi e più lontani o da qualche altro luogo nel tempo mi ritrovo nella mia stanza con una cartolina ordinaria infedele un po sbiadita una foto scattata dall'angolazione sbagliata e al di là della contraffazione e della lontananza sento ancora come quel giardino mi attiri dolcemente erano alcune righe tratte da cerchi infiniti di case noteboom in cui racconta dei suoi viaggi in giappone è bellissimo durante un viaggio allungare il giro visitare la reggia la residenza estiva dei reali visitare il giardino del famoso pittore fuori dalla capitale è bellissimo trovare soggetti cui scattare foto però quell'infiorescenza di allium nel giardino di monet la si può apprezzare in più modi per la forma per il colore perché si tratta di una pianta sconosciuta perché è sorprendente si può infine pensare che è lì in quel giardino a dare carattere a esprimersi e a farlo coralmente con gli altri vegetali con il vento con gli uccelli con i sassi il tempo che passa con chi in quel posto ha abitato per parafrasare pizzetti il giardino è un teatro in cui ogni elemento svolge un ruolo e lo fa in modo diverso in diversi momenti dell'anno aggiungo che come una persona che è conosciuto che ha visto in diverse situazioni più fasi della vita in più età è bello rivederla in foto in un filmino ma il valore di quell'immagine è dato dalla mia esperienza da quello che con quella persona ho vissuto dice ancora che snotebon che mentre a memoria di ogni giardino singolarmente tutti i giardini visti si fondono in un unico paesaggio infinito in cui le forme tipiche del giardino giapponese si alternano senza distinzione definisce queste memorie sovrapposte con posizioni illegittime che più tardi dividerò nuovamente nelle rispettive proprietà con l'aiuto di libri e fotografie è con le parole che noi siamo stati attratti dai giardini nei secoli non cronache attendibili e serie ci hanno affascinato ma le storie che si raccontavano su di essi sempre l'eden sempre quelli di babilonia sempre versaglie parliamo del sapore dell'idea del sentore di arte viva che solo una pianta in un giardino può dare con tal'espressione che ha chi ne parla quando ne parla quindi cosa ha da raccontarmi un giardino non è solo la vita del grande pittore la vita della famiglia reale la storia cronologica dei personaggi passati in quel luogo può raccontarmi tutto può riguardare la scienza la profumeria la gioielleria il design la fatica fisica la psicologia è importante di un giardino conoscere il progettista e fare amicizia con i petti rossi scoprire un posto in cui sono nascoste delle cose incuriosirsi del perché la stessa pianta a pochi metri di distanza sia cresciuta in due modi differenti quali attrezzi vengono usati torniamo allora alla domanda iniziale perché un podcast noi non ce l'abbiamo con le immagini non ce l'abbiamo né con la fotografia né con i video anzi il punto è che nell'epoca delle immagini pensiamo sia giusto ritagliarci uno spazio in cui delle cose che guardiamo si parla e nell'ascoltare nel parlare si crea un dialogo si crea un movimento per cui magari qualcuno improvvisamente ha voglia di andare con un amico con una persona cara a visitare un giardino e poi discuterne discuterne anche animosamente come si fa di un film che è piaciuto o non è piaciuto scattare delle foto e poi di quella foto fatta quel giorno godere come si gode di una nota ritrovata su di un libro già letto grazie a tutti